Ragazzuoli, è con questa che si fa? La si manda o non la si manda? La mandiamo, vediamo, 85 e più, vediamo se scugliamo Fumunica Doppio bonus 85 completato, andiamo a vedere chi sarà la corte del vostro alebegno 86 Walk out, Manuel Neuer alla corte del vostro alebegno 86, portiere, fortissimo E dopo Neuer rimandiamo in un altro, 85 e più, vediamo se scugliamo ragazzuoli Comunica L'altro portiere, Main Yan, buono Questo è forte e bagato, riproviamo tutti ragazzuoli, sia lui che Neuer Poteva darmi dei giocatori di ruolo, però ci accontentiamo così E... bello a tutti ragazzuoli, bentornati sul canale col vostro alebegno 86, buon lunedì 28 novembre a tutti ragazzuoli, buon inizio settimana, spero che abbiate passato bene il weekend Avete visto le SBC 85 e più, mandati puttana Eva Ie, mi ha dato tre portieri, non ha un senso per me, però ce li prendiamo Ragazzuoli, rimanete sintonizzati, facciamo partire Ultimate Team perché ho intenzione di andare ancora a rafforzare il nostro Scarsena, quindi Ultimate Team, si parte Eccoci qua ragazzuoli Main Yed, Reif, 17k, sono riuscito a venderlo 41.000 credit abbiamo ragazzuoli, quindi Muoviamoci prima che il prezzo sale, lo voglio Anche solo per provarlo, quindi Mercato Attaccante Di ruolo Di peso Qualcuno ha già capito Haaland, 88 VGG a far coppia con suo, ma sta CR7, Mosekin, lo spostiamo al posto di Federico Nazionale Chiesa Il prezzo attualmente su Footbin, se non erro, sta a 37, vediamo, la conferma, la prova del 9 Haaland 37k ragazzuoli Subito, subito Eccolo qui, vediamo se lo troviamo già con Cacciatore, si Compra ora Yes Shrek, la corte del vostro Alebigno 86 Questo qui è buggato ragazzuoli, è lenti Con Cacciatore davanti, siamo ancora un pelino più forte Piano piano, piano piano Entriamo negli, no, negli automatismi di EA Ok Ce lo portiamo in squadra subito Senza neanche pensarci due volte Rosa E facciamo così Mosekin Posso cambiare di ruolo in AS, è vero? Yes Chiesa però lo voglio, in panca Ci buttiamo dentro Bardi 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 lo mandiamo a fanculo E dentro ci mettiamo Holland Ok Sale anche la valutazione del nostro Scarsenal 87 Eh, non mi si ibrida perché Lui va due Allora, vediamo subito se riusciamo a cambiargli il ruolo Mosekin Se ce l'ho Sì AS Ok Iniziamo a ragionare così Poi, poi, poi Eh Qui ci andrebbe Walker Del City Che mi si ibrida un po' Siamo a 30 di 33 Manca un punto a lui Uno a lui E uno ad Holland Vabbè, però Possiamo provare a giocarcela Lo stesso così Ragazzuoli Quindi, si parte Prima di partire facciamo gli oneri di casa Ringrazio tutti i nuovi iscritti Ma tutti, 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 tutti Ragazzuoli Continuate a iscrivervi al canale Mi raccomando Attivate la campanella delle notifiche Per non perdervi i prossimi video Poi Saluto I soci Angelo Bove E Demis Boscherini Vi invito a iscrivervi al gruppo Telegram Se siete dei fifari Per info Per quanto riguarda moduli Tattiche Compravendita Chi più ne ha più ne metta Gruppo Telegram Ultimate Team FIFA Al canale dell'admin del gruppo Ovvero il buon Alex Cuso Canale YouTube Mister Cuso Detto ciò Ragazzuoli Si parte Division Rivals Andiamo a vedere se Riusciamo ad ottenere il checkpoint Con una vittoria Mi sembra Ah E non mi posso dimenticare Ragazzuoli Di ringraziare tutti i membri Della mia E nostra community Insieme ai soci Angelo Bove E Demis Boscherini La prima community italiana Di UFL UFL Italia Ringrazio tutti i membri Che dopo il posticipo Del rilascio Da parte di Striders Non se ne sono andati Sono ancora lì E interagiscono Dopo il video Che ho caricato ieri Sul canale Pubblicato nella community Siete grandi ragazzuoli Continuate così Che tra un mesetto Hanno detto Che ci fanno sapere qualcosa Per quanto riguarda Il day one Di questo Benedetto UFL Buono Ho detto tutto ragazzuoli Partiamo Ho già parlato fin troppo Ho già detto troppe cazzate Quindi torniamo indietro Ragazzuoli Gioca Division rivals Sesta divisione Andiamo a provare Alland In coppia con CR7 Sì No No Servono due vittorie Per ottenere il checkpoint Adesso si fa tosta Ragazzuoli Adesso si fa tosta Ma noi ci proviamo Ok La squadra è questa Primo sfidante Di giornata Vediamo chi sarà Fammi fumare Sono curioso Sono curioso di provare Alland Vediamo il ping Ping 18 Accettabile Quindi si parte Matchmaking Vediamo chi sarà Il primo disfidante Di giornata Ragazzuoli Avversario trovato Vediamo come è piazzato Il bro Lira Kira Idei Come cazzo si chiama Bayer Monaco Stemma Oblak Militao Navas Cap de Villa Vinicio Zoukait Lucas Valverde Terry R L'altro non l'ho visto È forte Una bella squadra Si parte ragazzuoli Attenzione Alland Con quel 10 sulle spalle Soffiato a Paolo Di Bala Appoggia subito Per Cristiano Ronaldo L'attesa è finita Si comincia Adesso largo Non c'è Fede nazionale Ma c'è Mosekin Attenzione a Kim Subito Jesus Navas Occhio in fascia Aia Gol della merda Attenzione Subito 1-0 Siamo sotto ragazzuoli Papain Sbaglia Sbaglia tutto Cristiano Ronaldo Ha le ragiona Vai Hernandez Hernandez Tienilo Tempo reggia Tempo reggia Che c'ho sempre L'L2 A chiodo L'R2 Non l'L2 Questo gioca Ragazzuoli Via 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 Proviamoci Contropiede Capisce tutto Però Aia Tutto di prima Partito Ken Ronaldo Allan Che attacca la profondità Ronaldo non ci riesce Questo è tutto chiuso Tutto chiuso ragazzuoli Chiudo l'1-2 Arriva in sovrapposizione Momo Salah Momo Salah Se ne va Momo Salah A mille Momo Salah Attenzione Guarda in mezzo Per Ronaldo Ci mette la zampata Finale L'avversario riparte Contropiede Si capovolge Attenzione Oddio Che l'avevo presa Però Tienilo 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 Occhio in mezzo E tutto solo Allison Salva il risultato Sull'1-0 Ragazzuoli Avversario tosto Avversario tosto La mette fuori Chi c'è? Salah Deve temporeggiare Riparti Allia riparti Così Bravo Dalot Alland Sovrapposizione di Dalot Lo vede Deve rientrare Però c'è Ronaldo Che attacca la profondità Di qua c'è Moseken Che si fa vedere Capisce tutto Ah va se riparte L'avversario Tutto chiuso Ragazzuoli Spammo un L1 Triangolo così Perdiamo il rimpallo Attenzione Attenzione Mi è andata bene Canale ha cercato Di fare il gol Della merda E adesso Le punte alte In avanti Ce le abbiamo Quindi Palla lunga Per uno dei due Alland A fare una sponda Per Cristiano Ronaldo Che avviene Ronaldo ancora Per Alland Gioca aereo I due Quattro metri in due Tienilo Fermati Aia Sguscia via Terrier Koulibaly Lo insegue Koulibaly Ancora Terrier La butta fuori C'è solo una squadra In campo Ragazzuoli Quella del nostro Avversario No Dagliela Subito A Salah Vai Salah Vai Salah In mezzo Eh troppo sul portiere Però Troppo sul portiere Fa piazzare la squadra Lui L'allarga tutto Capisce Salah Ma è in ritardo Uno due Così gioca bene Il nostro avversario Addio Fatica Mettila fuori Mettila fuori Tomori Sì chi c'è C'è Momo Vai Momo Momo Minchia vola Ragazzi Alland Al debutto Ad incrociare Alland Alland Si presenta così Allo Scarsenal La riaggancia La riaggancia Che prendila però Sto skill Il mio si sposta Non so Non so se mi fa Non so se mi fa intesa Non credo Via sta cazzo Di palla Scivola Che rischio ragazzuoli È così È così Trentunesimo 2-1 Bella così In profondità In profondità Per Alland Se ne allunga Il pallonetto Ancora Alland Sculata Sculata È rimasta attaccata 2-2 È quella partita Ragazzuoli È quel match Da cardiopalma Attenzione A kickoff Quindi pressing Sui consigli Del buon Mister Cuso Sì Aia Aiuto Come è entrato Come il burro Gol della merda Palo Sculata Ragazzuoli Ci sta dicendo bene Adesso Sì Ancora lì Sì ragazzuoli Che culo È partito Ronaldo È partito Ronaldo Nel buco Lui lo fa uscire Eh ci perdiamo Ci perdiamo Puttana Eva Ragazzi I tempismi Ancora Non c'ho Non c'ho ancora I tempismi Lui con l'elastico Vinicius In fascia Attenzione Che questo vola Koulibaly Oddio Vuoto Attenzione Al gol della merda Allison Spostalo Emanuele Sì Vai barella Così Vai momo Cazzarola Bravo Teo Vai Keen Chiedi l'1-2 Vattene Mose Così Rientra Mose Keen Alla botta Alla Andai messo bene Fuori gioco Mi sto divertendo Ragazzi Bella La sventagliata Cercare Vinicius Marralbito Dice che Finisce a primo Tempo Si riparte Per impostare le tattiche Mi son perso Lui rientra Lo capiamo Salah Salah a difendere C'è un paura C'è un paura però Quando veniamo giù Ragazzuoli Teo Teo Bravo Mose Keen Esagera Keen Perde il tempo Occhio che entra Oddio Eh ci sta Eh ci sta Ho sbagliato Ho sbagliato in fase di uscita 3-2 Mose Così Ragionale Che è tutto chiuso Guarda Ronaldo Subito per Mose In profondità Ronaldo Che attacca la profondità Col contagiri Attenzione Cristiano Ronaldo Esagera Dammi Hernandez Dammi Hernandez Varela Momo Salah Alland Entra Bravo Attenzione Alland La botta Oblak si oppone Salah chiama la calma Noi cerchiamo uno dei due O Alland OCR7 In mezzo all'aria Corta per Mose Se sbagliamo il calcio d'angolo Lui riparte Nello stretto Ancora Momo Mose Dio mio Cos'è Tienilo largo Uh Mi manda vuoto Numero Sei grande Teo Ecco la gioca qua L'abbiamo capito Eh L'abbiamo preso L'abbiamo preso Ragazzuoli Quit Ci proviamo dai Sbagliamo tutto però Calma 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 Vinicius Questo vola Di qua Subito a Salah A Salah Volevo Volevo Salah Gliela ridata Cristiano Ronaldo Era tutto solo Andava in porta Bravo Colibali Adesso dagliela Ridagliela Vai Alland Vai Alland Oddio Porco Keen Chiede lo scambio È bella Eh Ce l'allunghiamo però Ce l'allunghiamo Ragazzuoli Devo lasciare il tasso Della corsa E cercare di fare Quel micro movimento Sbagliamo tutto Bella sovrapposizione Valverde Tomo Ha rimesso bene Lui lo capisce Keen Ronaldo Alland Chiede l'1-2 Con Salah Oddio Sbagliamo il tempismo Del passaggio di ritorno Ragazzuoli Sì È tutto chiuso Ronaldo Eh Ronaldo Un po' sui chiodi Lui è partito Esce Hernandez Ma lui se ne va Tagliela Questa è bella Alland Esagero Esagero Perché Esagero Eh Sono un coglione Me lo dico da solo Sono sul 4-2 Mi sono già mangiato due gol Appoggia chi Settantasettesimo Stai zitto a Dani Ti sei già fatto cazziare dalla Rai Per il gol di Messi Dire minchiate Almeno su P Numero di Vinicio Ci prova a giro Bellissima È un po' un bug questo Perché è anche d'esterno Mi hanno detto che nerfavano Niente ragazzuoli Aveva meritato Ci abbiamo provato Ci abbiamo provato Vai Keen All'ottantunesimo È finita ragazzuoli Ci abbiamo provato Dai Quando l'avversario merita C'è da dirlo Più forte Punto Noi facciamo I coglioni Ci mangiamo i gol Qui sbaglio Spammo X a caso Esci Bravo Dalot No 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 Cosa ho fatto Esci No sbaglio tutto ragazzi Sbaglio tutto Ecco che questo rientra E mi fa impazzire Con Vinicius Buona ragazzi Militao Mi sa che ha fatto i cambi Vuole portare a casa il risultato Cosa che riuscirà Molto probabilmente È finita Ci riproviamo La squadra c'è Mi sono divertito lo stesso Ragazzuoli Non importa il risultato Si può sempre vincere Spammo X a Muzio Uuuuh Allison Dice che vanno bene 5 pere Per oggi Ma non è ancora finita Mettila fuori Ronaldo Finita ragazzuoli 5 a 2 Ci sta Dai Proviamo con una seconda partita Allora torniamo un passettino Indietro al checkpoint Mi sa che stagniamo un po' In sesta divisione Come vi avevo accennato Ragazzuoli Perché il livello già è alto Sì Rimaniamo qui al checkpoint Facciamo partire la seconda partita Di giornata E cerchiamo di non fare i coglioni Quando sono sotto porta Devo grigliarla Non devo farmi i viaggioni Allora Giocatore Ronaldo Diamogli 28 partite Allora Facciamo una cosa Siccome c'è il bug No? Dei tiri d'esterno Se io inverto loro due E poi cerco di fare il tiro speciale In teoria Tirando l'esterno Qua ci va un mancino Che Alland È un mancino In teoria Esatto E Cristiano Ronaldo Undess Quindi Facciamo questo cambiamento qua All'interno Dello Scarsenat Partiamo Vediamo chi sarà il nostro secondo sfidante di giornata Ultima partita Ragazzuoli Poi stacco FC CHJR7 Salernitana Onana Kalulu Bremeriv Gosens Dest Zambangis Anche lui Ben Nasser Leao Icone Kine Arnautovic Tanto ormai sono tutte belle squadre È tre mesi che è uscito il gioco Si parte ragazzuoli Da sinistra a destra Alland Per Cristiano Ronaldo Adesso No vabbè Volevo Ronaldo Iniziamo bene Varella Va bene Kine largo subito Bella Capisce tutto Dest Vediamo se riusciamo a portare a casa Una partita su due O se arrivano due sconfitte È bella Kine col numero Cambia il parziale Mose Kine Disorienta Una zero Anche lui skill Attenzione C'è anche Kine Lui Qual è? Quello il mio? Non l'ho visto Se è quello che ho trovato pure io Appoggiati Bravo Larga subito Così Kine In mezzo Appoggiati Guarda te Che di due non ne hanno fatto uno Porca puttana Meno male che c'è Allison Ronaldo Si Così Spammami un L1 triangolo Fatto bene Fatto bene Fatto bene Non uscire Bravo Colibali Uh L'1-2 Non avviene Riparte Kalulu Mosekin Appoggia Andi sa Arnautvic Allarga Capisce tutto Capisce tutto Dalot Che è fuori posizione Deve chiudere Tomori deve chiudere Mi fa ballare E apre Bellissimo Grande Dalot che rientra Allarga Giallo Per Leao Credo che era Leao Salah Oddio Prendi la Salah In sovrapposizione Vai Momo Fallo eh Mettile in mezzo Ah Fallo allora Dai Ok Eh Ronaldo Adesso io di qua Non ce l'ho più di bala Proviamo con l'esterno Di Cristiano Ronaldo Parte Cristiano Ronaldo Barriera Ronaldo Vai Ronaldo Uh Varella Apparecchia Per Allan Nello stretto Allan Ancora Eh Tutto chiuso ragazzi Ne avevo quattro addosso Tienilo E' partito E' partito Ken ci prova Ma inchiana Scoreggia Allison Esageriamo Esageriamo E' giusto che prendi Gollale Godo Mi sta bene così Perché io devo fare il fenomeno In fase d'uscita Ben mi sta Cambia il parziale Capisce tutto 1-1 No cambia il parziale 1-1 E' roba in vantaggio Vero Occhio che rientra Uh Allison a sto giro Si presenta bene E dice no Mettila fuori Vai King Vai Mosè King Vai Salah Che ce ne hai Vai Salah Rientra Salah Eh Troppo Dovevo andare Vabbè King Recupera Ancora esageriamo Ma ci piace così Anche lui rientra Lo vede Capisce tutto Oddio Allison L'amico liba lì L'amico liba lì Sì Appoggiati Vai Alland Vai Alland Guarda Ronaldo Oh cazzarola Sbaglia tutto Ventisettesimo Rimessa dal fondo Palla lunga Che adesso ce li abbiamo i centimetri Alland Protegge Appoggia Sì Per chi Niccolò nazionale Sì Vai Alland Alland voglio Ecco Devo svicciare in automatico Devo svicciare con l'analogico Non con l'L1 Minchia A volte si impalla Anche qui il cambio cursore Salah Bra Eh no Però Occhio Minchia l'ho ucciso E fall Fallaccio Gli ho fatto ragazzi No 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 Calma 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 Bravo Niccolò Così Così Manguissa Largo Tienilo Attenzione Leao Bravo Vai Teo Poggiati Kim Ragiona Così Bravo è partito Madonna mia che furia Eh sì Devo mollarla Sta cazzo di corsa Alzati quadrato Dov'è mollarla Mettila fuori Siamo partiti abbastanza Abbastanza decentemente E ci siamo persi Lungo il cammino Vediamo se riusciamo A riagganciarla Attenzione Attenzione minuti di recupero Minchia gli stanno volando Gli stanno volando Un minuto è finita Non mi fa ripartire E proviamoci al secondo tempo A riagganciarla Ragazzuoli Si riparte col primo possesso Del secondo tempo Risultato favorevole Per i blotti X Ma Cristiano Oddio Switch amigalot Dai che tu Anguissa Bravo Appoggiati Bravo È partito Si è fermato Deve rientrare Larga tutta di là Non ci arriva mai più Non ci arriva mai più Sta palla Tienilo Appoggiati Sì Dai che è entrato Cazzo Cosa ha tolto Minchia Allan Ha due millimetri Ti è passato Bravo Curibali Così Subito di qua In mezzo c'è Allan Che è entrato Allan Eh che cazzo Non vincuri in pal Sì Vai Allan Lotta Si è spostato Vai Mose Lotta tu E dagliela adesso Fuori gioco Eh l'ho visto Puttana Eva L'ho visto Oh la telecamera Ehi Entrato No Dai cazzo Ale Dagliela Bella Eh sbaglio il controllo Sbaglio il controllo Occhio in fascia Bravo Tomori La fretta è in culo Vedi Una X Di troppo Aia Eh Forte È più forte Beh ci proviamo Ma è così È così Anche se Eh sbaglio tutto Poi tilto No Ronaldo Eh non entra Raga Tutta di là Che gliela dà Minchia viene giù Forte Tomori Sì Tomori Palla piena Alland Che gli viene in corto Ronaldo che attacca la profondità Rientra sul destro Ronaldo Fallaccio eh Bremer Era già munito Ah no Era Leao Già munito O Bremer Non mi ricordo Ronaldo Parte cristiano Barriera Mettila Sì Sì Accorciamo le distanze Siamo ancora vivi Sempre lui Sempre lui Ragazzoni Sempre lui Ciù Da Ronaldo No Lì No lì Meno male che sbaglia anche lui Ogni tanto Alland Alland Entra Sì 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 Tre 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 Grande Alland Entra subito bene Madre Sì Keen Fai ripartire lo Scarsena È partito Ah Ronaldo L'ultimo passaggio Puttana Eva Occhio 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 di là Bravo Colibali Però non è sempre I suoi Ste cazzo di palle In uscita Occhio a gol Della merda Non mi dà nessuno Mi è andata bene Ragazzuoli Mi è andata bene A 75 esi L'ho vista dentro Palla lunga Palla lunga Potrei switchare Il 5-2-1-2 Ma voglio vincere La nostra partita Barella Ragiona 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 Così Nicolò Ronaldo Anguissa C'è Ronaldo Sì 4-3 Scarsena Ragazzuoli Attenzione Adesso switchiamo Fuori gioco Ma minchia Ci ho creduto Per un attimo Ci ho creduto Ragazzuoli Vabbè vabbè Ci riproviamo Ci riproviamo L'importante È non prenderlo Appoggiati Lunga Allison Alland No Alland Che si fa anticipare Da quel tappo Di merda Chi cazzo era Occhio Tienilo Via Così Vai Ronny No Nicolò Allarga 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 Bravo Teo Eh Dio Cane Teo Recupera Teo Temporeggia Mettila fuori Che vabbè Questo tra un po' Fa un euro goal Della madonna Si Tagliela È bella Oddio Cosa ha tolto Ragazzi Che cazzo Mi ha tolto All'ottantasesimo Ci riproviamo No Aia 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 Dio santo Dio santo Esci Porco Dio Impestata La madonna Devo buttare giù Tutti i santi È venuto giù Ma purgato Ragazzuò Ci sta Bella partita Lo stesso Riproviamo L'assalto finale Vediamo Niente Eh Un altro avversario Forte Guardatelo qua Con quel cazzo Di mico Movimenti Ci prova Da casa sua Subito Ultimo assalto Ultimo assalto Di qua c'è Kent In mezzo c'è Alland Ah L'ha tolta Thailand Kai Eh Niente ragazzuoli Due sconfitte ragazzuoli Vabbè ci siamo divertiti lo stesso Il livello è altissimo Lo sapevo già Per me che giocava a PES Sesta divisione Il livello è alto È così Per chi gioca a FIFA Magari no Ma per me sì Con queste due partite Il vostro Alebbene Chiude il video Vi rinnovo le dite Iscrivetevi al canale Grazie a tutti gli iscritti Ancora una volta ragazzuoli Ci vediamo domani Con un nuovo video Su FIFA 2023 Ciao a ben dacci